Ciao ragazzi, buongiorno! Non sapevo se darvi questo ultimo minuto oppure no, però è da ieri mattina che ci penso. Poi ieri, guardando una live di alcuni miei colleghi che fanno l'otto, ho detto qua per forza devo darla. Poi mi sono sentito con la persona e ho detto ma che faccio, la do lo stesso? Le ho dimostrato che io già il giorno prima avevo lo stesso Ambo su una ruota in particolare. Sto parlando del grande Enzo Amatuzzi, ciao Enzo che lo saluto, saluto anche Valentina Colaceci e volevo farti complimenti, visto che ieri ti ho visto in live con Enzo Amatuzzi, complimenti perché io ad oggi non ricordo di aver visto forse una live con più di 1150-1200 persone. Complimenti, complimenti veramente, tutti meritati, complimenti Valentina, complimenti anche a Enzo Amatuzzi, carissimo amico mio virtuale. E quindi proprio con Enzo, ieri, mentre guardavo una parte della live perché mi sono connesso e disconnesso più volte, ho visto che Enzo Amatuzzi ha regalato una terzina su alcune ruote e io gli ho scritto in live. Ciao Enzo, ciao Valentina, ciao Enzo, guarda che io ho su Bari Genova lo stesso Ambo tuo e lui mi ha detto Mimmo, ti mando su Whatsapp una locandina. Quindi anche Enzo Amatuzzi con la ruota convergente di Bari, posso dirlo, ha lo stesso mio Ambo che io avrei dato oggi come ultimo minuto. Allora, ve lo dico a voce, prendete carta e penna e se non mi seguite, nonostante la mia precisione, sempre al mille per mille, stoppate, andate indietro e riguardate. Allora, ultimo minuto, giocatela però come vi dico io, poi se volete risparmiare è affare vostro, ma se la giocate come dico io può essere che vincete un po' più di soldini. Io vi dico direttamente l'ambo principale qual è, qual è la ruota principale, che l'ho detto prima è Bari. Allora, l'ambo principale è 46-60, ripeto, convergenza con Enzo Amatuzzi. È inutile che scrivete a me o a Enzo, Mimmo, se vi siete copiati, no, qua copiologi non ce n'è. Andate su altri canali a vedere quanti copiologhi ci sono. Enzo Amatuzzi ha lo stesso mio Ambo e io ho lo stesso Ambo sulla ruota convergente di Bari. Quindi per me è Bari-Genova 46-60, però Bari è la ruota principale. Ma io che cosa vi voglio dare? Un numero per Terno. Allora, Bari-Genova, secondo me, 46-60-18 fate Ambo e Terno. E solo a Bari staccate e fate un Ambo e Ambetto 46-60. Così se esce il 46-60 Bari non solo lo vincete secco a Bari, ma vincete anche l'Ambo in terzina. Quindi la previsione completa è Bari-Genova 46-60, Ambo e Ambetto, per Terno 18. A Bari il 46-60 è più forte. Quindi un eurino in più io ce lo metterei. Saluto ancora Enzo Amatuzzi, grande Enzo della grande convergenza, per me è solo che è un piacere. Speriamo che non ce la bruciano copiandole in queste ore a venire prima dell'estrazione. Ormai siamo abituati a trovare le nostre previsioni su qualsiasi canale. Poi uno dice, ma sia una coincidenza? No, perché Mimo Nazionale, le previsioni che fa, non usa spaziometria, non usa ciclometria, non usa distanze 30-40, cazzate lì. Faccio tutto a mondo mio, quindi se io trovo una previsione e ce l'ha un altro, io devo solo pensare come una grandissima convergenza. Infatti il grande Enzo Amatuzzi, che fa spaziometria, l'ha trovata in questa condizione, credo di aver capito, se non ciclometria, comunque spaziometria. Io l'ho trovata in determinate condizioni diverse e abbiamo lo stesso Ambo a Bari, cioè 46-60, quindi occhio. Dovevo darvelo, lo so che magari vi ho mandato in confusione, so che già qualcuno ha giocato. Se fate in tempo bene, se no, amen. Tenete buono questo Ambo qua principale e per Terno il 18, quindi Bari-Genova 46-60-18, Ambo principale 46-60 sulla ruota di Bari. Ciao ragazzi!